In questi anni la linea Green B.O.C.H. è diventata un punto di riferimento per i professionisti delle potature. E da oggi nasce un nuovo modello, Green B.O.C.H. 150 Road, ancora più professionale e ancora più performante. Io sono Daniele Bianchi e oggi andremo a scoprire e a capire tutte le caratteristiche di questo nuovo prodotto. Qui vediamo la macchina in posizione di trasporto. Con una semplice leva si apre la tramoggia. Da qui si capisce subito la destinazione d'uso. Giardinieri, arboricoltori, agricoltori, boscaioli, tutti coloro che vogliono cippare volumi fino a 150 mm di diametro, quindi rami da 15 cm di diametro, oppure potature molto importanti, quindi molto voluminose. Quindi può essere ramaglia, siepi, eccetera, che io voglio triturare in maniera molto veloce. Per fare questo che cosa serve? Serve una tramoggia molto ampia e molto comoda. Andiamo a vederla nel dettaglio. Allora, qui parliamo di una tramoggia che ha un imbocco di ben 1200 mm, 120 cm, per poter caricare anche in due operatori veramente tanto tanto materiale. Come avete visto, richiudibile in fase di trasporto. Un'altra cosa molto comoda di questa tramoggia è l'altezza da terra. Qui parliamo di circa 70 cm a terra. È molto comodo raccogliere il materiale e non si fa fatica nel carico. I comandi sono tutti a portata di mano e possono essere utilizzati sia a destra che a sinistra. Quindi sia che l'operatore sia singolo e si posizioni da una parte, o che ci siano due operatori al carico. Altra cosa fondamentale, quando io voglio caricare molti volumi, è quella di avere un imbocco al carico molto importante, quindi molto grande. Abbiamo un carico fatto con doppio ruolo idraulico. Ma anche in questo caso vedete che sono più di 40 cm la parte dell'imbocco ed è molto alto. I rami spesso non sono dritti, quindi è vero che 150 cm sono una grossa dimensione, ma spesso ho dei rami più piccoli che sono storti o hanno delle biforcazioni. In questo caso con biotrituratori di altre dimensioni io devo andare a lavorare di motosega e quindi devo perdere molto tempo per portare a misura il ramo. Con questa macchina io carico tutto senza problemi. Abbiamo detto che una delle caratteristiche di questa macchina è la velocità di lavoro. Velocità di lavoro che dipende anche dalla forza con cui i due rulli idraulici caricano all'interno del sistema di taglio. La velocità dei rulli può essere regolata manualmente, ma viene anche gestita da una centralina antistress in versione Pro. Abbiamo due funzioni particolari di questa centralina. La prima, il materiale quando viene caricato, se il sistema di taglio è intesato, arretra di qualche centimetro e poi viene ripreso, tutto in maniera automatica e tutto in maniera molto veloce. Questo comporta il fatto che l'operatore non si debba mai staccare dalla zona di carico e quindi possa lavorare con estrema velocità. La seconda funzione della centralina è quella di avere tre modalità di utilizzo a seconda del materiale che carico, secco, verde o ramaglia. Ma la parte più innovativa di Green Bio CH150 è il sistema di taglio. Per accedervi è molto semplice, questo comodissimo anche per fare la manutenzione, basta svitare tre bulloni e aprire il cammino con questo sportello. E qui sono nel tamburo dedicato al taglio, che si chiama Green Ultracut. La prima cosa che noterete è che Green Ultracut è costituito da un cilindro completamente chiuso. Perché è stato fatto così? Perché quando gira ha minore inerzia, quindi fa minor sforzo. Cosa vuol dire? Che la potenza del motore sarà interamente dedicata al taglio e i consumi si abbassano. Il flusso d'aria che serve per espellere il materiale è poi garantito da alcune ventole che ci sono nella parte esterna del tamburo. In questo modo otteniamo il 50% di potenza in più e il 30% di consumi in meno. Le lame non sono avvitate direttamente sul tamburo, ma ho degli inserti amovibili svitando quattro bulloni. Con in mano questo inserto io posso lavorare distante dalla macchina e in tutta comodità. Posso andare a tranquillamente girare la lama perché ha due taglienti, quindi quando si usura uno posso utilizzare l'altro. E attraverso una pratica dima di precisione posso andare a posizionare la lama nella maniera perfetta per quanto poi rimonterò l'inserto sulla macchina. Quindi in questo caso manutenzione super veloce e manutenzione precisa, cioè sarò sicuro che il coltello sarà montato precisamente. Il cammino di scarico è a 235 cm da terra. Può caricare materiale anche sui pianali dei camion più alti. Con una semplice maniglia è possibile ruotarlo e indirizzare lo scarico. L'assetto road di BCH150 permette il trasporto su strada. Per farlo abbatto il cammino, una leva rapida, e aggancio al gancio di traino dell'automezzo il carrello. Il BCH150 Road sta sotto i 750 kg di peso e quindi può essere guidato su strada con la normale patente BI, quella dell'automobile. Come avete visto in questo video, Greenbio CH150 è una macchina dedicata a chi ha grandi volume di potature e vuole lavorare in materiale molto velocemente. Stessa cosa vale anche per la manutenzione, veloce ed efficace. Un occhio di riguardo è stata data ai materiali costruttivi. Prima qualità è made in Italy. Ma a parte questo video, il consiglio che vi do è quello di vedere lavorare la macchina dal vivo. Solo dal vivo potrete percepire veramente la qualità di questo macchinario. Presso i nostri rivenitori sul territorio potrete testare la macchina dal vivo prenotando un test drive gratuito.